Ciao a tutti, in questo video vi presentiamo una versione più breve del nostro contributo per la conferenza di H-Nord 2021 che quest'anno è stata dedicata ai cosiddetti Data Papers. In questa conferenza abbiamo presentato la prospettiva e l'esperienza del Journal of Open Humanities Data, abbreviato JOD, nella pubblicazione di Data Papers per le discipline umanistiche. È un contributo dato dai membri del team di JOD, nello specifico Paola Marongiu, Senior Social Media Editor, Marto Nribert, Copy Editor, Barbara McGillivray, Editor-in-Chief e me stesso, Nilo Pedrazzini, Editorial Assistant e Copy Editor. Per prima cosa abbiamo dato una panoramica sui Data Papers nel tempo e oggi, constatando che la pubblicazione di Data Papers è in continuo rapido aumento, soprattutto per le scienze. Quello che abbiamo notato però è che attualmente per discipline umanistiche abbiamo soltanto 5 riviste che hanno almeno una componente di descrizione dei dati. Questi sono il Journal of Open Archaeology Data, il Journal of Open Psychology Data, il Journal of Open Humanities Data, il Research Data in the Humanities and Social Sciences e Internet Archaeology. Il quinto, Internet Archaeology, in realtà non può davvero essere considerato un Data Journal, poiché il suo scopo è piuttosto la pubblicazione di rappresentazioni digitali di manufatti. Dunque, la questione principale è capire come mai esiste questa differenza evidente tra scienze e discipline umanistiche. Una questione fondamentale, a nostro avviso, riguarda la definizione di dato nelle discipline umanistiche. L'ostacolo è la difficoltà di trovare una definizione che accomuni tutti i campi dell'umanistica. Il campo delle discipline umanistiche è estremamente vasto e molto eterogeneo, che include discipline come la linguistica, la storia, la filosofia, il diritto, la letteratura, l'antropologia e così via. Hanno tutti non solo temi di ricerca molto diversi, ma producono anche oggetti molto diversi. Usano anche dati, metodi e strumenti difficili da confrontare. Da qui la difficoltà, ma anche la necessità di trovare una definizione univoca di dato. Questo spesso fa sì che i ricercatori non siano del tutto consapevoli del loro lavoro con dataset, chiamandoli in modi diversi, corpora, tracce audio, edizioni critiche o digitali e così via. È importante però ancoraggiare i ricercatori a prendere consapevolezza di questo enorme lavoro che spesso rimane nascosto e non riconosciuto rispetto ai risultati della ricerca. A tal fine è importante evidenziare i vantaggi che questo tipo di pubblicazione apporta ai ricercatori, oltre che alla stessa comunità scientifica. La pubblicazione di un data paper comporta infatti il deposito in open access di una banca dati e quindi la condivisione di questi dati con un pubblico più ampio. Questa condivisione a sua volta incoraggia il confronto tra ricercatori e in questo modo contribuisce al progresso scientifico. E infine la pubblicazione di un articolo su un dataset richiede che il dataset stesso sia ben strutturato e documentato e chiaro per un utente esterno, cosa che ovviamente costringe in un certo senso ad organizzare i propri dati in maniera che lo sforzo di produrli non debba essere ripetuto quando si decide poi di riusarli per un'altra domanda di ricerca. Per quanto riguarda gli autori dei data paper, un primo vantaggio è sicuramente la possibilità di vedere riconosciuto il proprio lavoro, la possibilità di essere citati per il proprio lavoro in maniera standardizzata e vedere il lavoro ufficialmente indexed e di avere contributi esterni alla propria ricerca, cosa che può migliorare i dati ulteriormente. Dopo questa introduzione possiamo finalmente dare una definizione univoca di cosa intendiamo per data paper. Jobs definisce un data paper come una pubblicazione che rende i ricercatori consapevoli dei dati con cui stanno lavorando e del loro potenziale per il riuso da parte di altri ricercatori. Data paper descrive dunque i metodi utilizzati per creare il dataset, la sua struttura, il suo potenziale di riutilizzo e fornisce un link al repository in cui è stato depositato. Ora qualche parola su JOD. La rivista è stata fondata nel 2015 e fa parte della famiglia di cosiddetti meta journal della Ubiquity Press. L'obiettivo di questi meta journal è di fornire un modo per i ricercatori per scoprire e far scoprire risorse di ricerca che sono solitamente sparse in più archivi e o solitamente difficili da trovare. I meta paper incentivano l'archiviazione aperta di dati e software per consentire anche ricerche nuove e più efficienti, nuove collaborazioni e un più ampio riuso. Il team di JOD è composto da ricercatori in diversi campi delle discipline umanistiche tra cui la linguistica, le lettere classiche e diritto. JOD pubblica due tipi di articoli, entrambi incentrati sulla descrizione dei dati. Il data paper è piuttosto breve, circa mille parole, e fornisce una descrizione strutturata e sintetica del dataset. Il research paper invece è più lungo, tra le 3.000 e le 5.000 parole, e ha lo scopo di discutere e illustrare i metodi, problemi e le limitazioni nella produzione di dati nel loro trattamento e o analisi. Per la pubblicazione con JOD si sceglie un archivio aperto dove depositare i dati e si indica nell'articolo il DOI di questo archivio. Dopo la pubblicazione è buona norma di solito aggiungere il DOI del data paper all'archivio in modo da aumentare il più possibile la visibilità dei dati. JOD accetta regolarmente l'invio di articoli. Ci sono anche special collections per le quali abbiamo call for papers sempre aperte. La special collections al momento sono tre. Humanities data in the time of COVID-19, Language of Communication Collections, Assessment and Recognition, Computational Humanities Research Data. E potete trovarle sul sito della rivista. JOD è anche convolto in una serie di attività esterne che vanno oltre la pubblicazione di articoli. Abbiamo organizzato finora due Open Humanities Data Forum per incoraggiare la discussione sui valori della condivisione e del riuso dei dati nelle discipline umanistiche, ma abbiamo anche partecipato ad eventi esterni come la conferenza LIBER, alla sessione Working with Software and Data, e a una tavola rotonda di esperti sulla citazione di dati, organizzata dalla Social Sciences and Humanities Open Cloud. Ora vi mostriamo alcuni risultati delle prime analisi che abbiamo condotto sull'attività di pubblicazione di JOD fino ad ora. Si nota subito che l'attività di pubblicazione è notevolmente aumentata nel tempo, dal lancio della rivista nel 2015 fino ad agosto 2021, quando è stata condotta questa analisi. Cerchiamo anche di classificare gli articoli che abbiamo pubblicato in base al loro campo principale, utilizzando le parole chiave che gli autori forniscono quando inviano un articolo. Quello che abbiamo notato è che alcuni campi sono chiaramente più produttivi rispetto ad altri, ad esempio l'informatica umanistica e il trattamento automatico del linguaggio. Tuttavia, ciò che emerge da questa analisi e che va sottolineato è che molti degli articoli sono in realtà interdisciplinari. Dopo la pubblicazione, inviamo agli autori un questionario da compilare per avere un'idea migliore delle loro impressioni su JOD, cosa che ci aiuta a migliorare la rivista. Oltre alle opinioni positive sul processo di invio degli articoli di peer review, uno dei risultati che ci interessa di più è il motivo per cui gli autori hanno scelto questa rivista, e cioè l'ambito scientifico in cui si colloca la rivista e la sua attenzione ai temi dell'open access e della condivisione dei dati. Abbiamo anche condotto uno studio per vedere come la pubblicazione di un data paper può aumentare la visibilità del dataset che descrive. Per farciò abbiamo calcolato la correlazione tra il numero di visualizzazioni di un data paper e il numero di download di un dataset da un lato, e il numero di tweet su un data paper e il numero di download del dataset rispettivo dall'altro lato. Abbiamo trovato che, mentre la prima correlazione sembra positiva ma non significativa, la seconda è in realtà significativa. E si può sicuramente concludere che la comunità scientifica è più incoraggiata a utilizzare un dataset se è l'oggetto di un data paper, che ha passato positivamente la peer review alla luce della sua più probabile validità scientifica e facilità di riutilizzo. Per concludere vorremmo collocare il data paper in una prospettiva più ampia di pubblicazione ad accesso aperto che rappresentiamo attraverso il modello della piramide dell'open access. Alla base abbiamo la repository del progetto che fornisce tutti i file sulle risorse e rende molto più facile seguire il flusso del lavoro fatto. Un gardino più in alto troviamo l'archivio aperto che permette di avere un DOI e di fornire documentazione sui dati depositati. Più in alto il data paper che mira ad attirare l'attenzione sulla risorsa e a sottolinearne il potenziale di riutilizzo. Infine l'articolo di ricerca in cima alla piramide dà visibilità ai risultati della ricerca ma con la clausola che lo scenario ideale è pubblicare con possibilità di open review in modalità open access e con la possibilità di ottenere una versione elettronica rapidamente disponibile. Questo modello riconosce la complessità del processo di ricerca e divulgazione e afferma esplicitamente che l'articolo di ricerca al vertice della piramide presenta solo una possibile interpretazione di dati raccolti che potrebbero essere oggetto di ulteriori analisi. Infine vi invitiamo a scrivervi al canale YouTube a seguirci su Twitter e a scriverci all'indirizzo mail indicato per qualsiasi domanda. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.